La regione Puglia sarà al bianco dei sindaci del Gargano dopo la mattanza di San Marco Illamis e quanto ha detto il presidente della giunta regionale pugliese Michele Emiliano che ha partecipato due giorni fa al vertice a Foggia per l'ordine e la sicurezza pubblica insieme al ministro dell'interno Minniti. La Puglia sosterrà l'attività delle forze dell'ordine in questo momento spiegando ciò che è accaduto all'opinione pubblica. Tra l'altro sono arrivando in queste ore i 192 uomini che sono stati allertati dal ministro dell'interno Minniti. Tornando al contesto di San Marco Illamis e al Gargano, il presidente Emiliano dice «Consideremo tutto il periodo fino al 21 marzo prossimo del anno 2018 come una grande battaglia di affiancamento delle forze dell'ordine e dei cittadini contro la mafia. Il Gargano non è più indolente e immobile. Ho visto negli occhi dei sindaci la voglia di vincere queste organizzazioni criminali e la voglia di vittoria sarà determinante per tutti noi». Minno Siena, Speciale News.